RIMORTIMA DELLA MANO PER RISIMORTA, PER RISIMORTA, PER RISIMORTA CELLA INTAIANA, SCORTI, SCORTI, MA L'UNTO SCORTI, CON L'ATRA MANO CON INTOIORTO, SCORTA, SCORTA, SCORTA MA CHE C'O' DELLA MANO PER RISIMORTA O LA FRANCESTA E' MOLTO SCORTI Salvatore S**** ALksen Lamar Lamar Ammicham PASGONE SAAGERATE RICOR Motion PICHIRO RICARCI Grazie a tutti Grazie a tutti